Grazie, buongiorno a tutti, è un vero piacere portarvi il mio saluto e quello dell'amministrazione che ho l'onore di presiedere in questo bellissimo luogo. Un grazie a Fondazione che come sempre organizza dei bellissimi convegni, dei temi di discussioni importanti che ci aiutano a riflettere, a espandere un po' la nostra vista sul mondo. Grazie agli autori di questo libro e tutti i relatori che saranno presenti oggi. Il Monte Bianco è la croce edilizia di questo nostro paese, siamo sicuramente identificati come il comune ai piedi del Monte Bianco e ci ha dato la notorietà, oggi ci crea anche qualche problema come ha anticipato il Presidente Dan Trev. Insomma questi ghiacciai che si stanno riducendo non hanno più la base di appoggio, quindi abbiamo forse uno dei pochissimi casi al mondo, sicuramente l'unico in Italia, con i ghiacciai che incombono su delle valli antropizzate e quindi ci obbligano a controllarli, a prendere ogni tanto delle decisioni non così belle perché quando si chiude l'accesso a una valle è sempre un qualcosa difficile psicologicamente da adottare anche perché si va a incidere su degli aspetti economici importanti. I confini sono importanti, ogni tanto sembra qualcosa di teorico e poi di tanto in tanto invece li tocchiamo praticamente. Qui vedo l'amico Francesconi con il quale abbiamo condiviso tutta la parte di progettazione di questo meraviglioso impianto e andare a definire il confine a Puntelbronner non è stato semplice, poi alla fine una soluzione è stata trovata, però sicuramente non semplice e le carte non ci hanno aiutato nel prendere questa decisione. Ma come due anni fa, estate 2022, l'accesso al Monte Bianco era difficile, il sindaco di Saint-Gervais ha deciso di mettere una scala per aiutare un passaggio, peccato che il territorio era italiano, sono intervenuti gli amici di Chamonix, hanno tolto la scala ed è nata una carella importante in Francia su territorio italiano, poi finita davanti al prefetto, quindi riuscire ad avere qualche sicurezza anche da questo punto di vista non sarebbe male per poter prendere le decisioni ognuno per il suo territorio di competenza. Poi con questo è bellissimo, oggi è una giornata meravigliosa quindi che si potrà godere a pieno di quanto sia bello, quanto sia maestoso e importante, è una montagna che se non la si conosce mette anche un po' di paura, ogni tanto soprattutto in Val Venici si gira e si vede questo massiccio che sembra che cada addosso, è una montagna molto diversa da quelle delle Dolomiti dove ci sono dei bellissimi colli e poi degli speroni di roccia, quella è una montagna imponente, importante, prima si circonnavigava per andare dall'altra parte, quindi con i colli aperti solo nei periodi estivi, poi le funivie ci hanno permesso di passare dall'alto oltre che solo per gli esperti e poi il tunnel, ultima croce delizia di questa situazione dove sicuramente ha aperto una via di trasporti, ma anche di relazioni, di condivisioni di problemi importanti e oggi ci troviamo dopo tantissimi anni a dover affrontare dei lunghi periodi di chiusura che preso uno a uno non sembrano tanti ma quasi quattro mesi di chiusura, se li moltiplichiamo per vent'anni sarà un periodo di tempo lunghissimo che avrà delle grandi ripercussioni economiche e culturali su tutta la valle e credo su tutta l'Italia del nord ovest. Quindi grazie ancora per questa giornata, per questi temi così importanti, vi auguro una buona e proficua giornata di lavori e grazie ancora a Ludovico e a tutta la fondazione e alle ragazze che come sempre sono molto presenti nell'organizzazione. Buona giornata a tutti.